Con le nostre spalle la intrepido oggi si presenta appunto la tratta inaugurale per quanto riguarda appunto la mini crociera che da Mazzara arriverà alle isole Egadi. Allora accanto a me il comandante nonché titolare di questa bellissima esperienza si va alla scoperta delle Egadi Massimo? Assolutamente come da isolano voglio appunto dare questo servizio e dare la possibilità alla gente che magari non arriva direttamente sull'isola ma che ha appunto la possibilità di raggiungerla in maniera giornaliera e che appunto si faccia un'idea un po' più completa delle nostre meravigliose terre. Niente abbiamo iniziato questo progetto con Mazzara a diversi anni che appunto lavoriamo su Trapani, abbiamo creduto sulla città di Mazzara e quindi abbiamo inoltrato questa esperienza e che Dio ce la mandi buona dai. Bene questa mini crociera come verrà strutturata quindi sarà un vero e proprio viaggio? Allora sì si partirà la mattina come da programma alle nove, si raggiungerà l'isola dopo un'ora circa di navigazione, si inizia a circunnavigare l'isola per appunto far visitare le coste meravigliose diciamo di Favignana e dell'Egadi. Come da programma ci fermeremo per quattro ore in maniera nel porto certo per appunto lasciare la gente libera per le vie del paese andando a visitare il museo, andando a fare bagni nelle meravigliose acque diciamo dell'isola. Quindi facciamo fare come si suol dire una bella idea dell'Egadi. Nel pomeriggio è prevista anche una sosta all'Evanzo quindi anche all'Evanzo si prevede appunto una sosta con visita panoramica diciamo della costa per poi rientrare alle 18.30 a Mazzara del Vallo. Bene allora in bocca al lupo per questa nuovissima impresa che si parterà appunto da Mazzara con l'Egadi Escursioni. Sì, sì sì sì, che sia una bella stagione per tutti. Grazie di cuore. La Egadi Escursioni si è affidata alla Salli Viaggi per affrontare appunto questo nuovo cammino per le isole Egadi. Ragazzi come state affrontando e come state vivendo questa nuova avventura? Allora intanto ringraziamo tutto lo staff dell'Egadi Escursioni per aver scelto Mazzara del Vallo ma per aver scelto soprattutto noi. Sono stati mesi di lavoro, di conoscenza interessante. Abbiamo fatto in modo di essere pronti per giugno per tutto il turismo che verrà a Mazzara. Saremo fino a settembre con quattro volte a settimana con questa bellissima corsa e speriamo che il turismo estero ma anche comunque il mazzarese ci appoggi in questa nostra scelta e che abbiamo una buona estate di vendita insieme a Egadi Escursioni.